Ora siamo con il responsabile dell'Atletico Madrid, Via Verde, una domanda. Qualcosa domanda del futuro dell'Atletico Madrid in Champions e del futuro? Per noi la domanda più importante è la possibilità di essere qui oggi. Penso che sia molto importante per noi, nelle ultime tre sezioni, con la 15 miglior parte dell'Europa. Credo che sia il futuro per noi. È la possibilità di spiegare i giocatori. Siamo molto felici e speriamo di combattere per i giocatori. Sei il primo, è molto importante per te, perché gli altri team hanno meno difficolti, anche se sei il secondo come Juventus. Sì, sì, sì. La Juventus è una cosa molto forte, credo che possono combattere per i prossimi mesi. Credo che la situazione dell'Atletico è molto simile, perché ora tutte le team che abbiamo nel giro sono molto forti e bisogna combattere.